Buona domenica a tutti. Cari amici telespettatori, oggi trasmettiamo la rubrica La gioia del Vangelo dalla chiesa concattedrale di Nicotera. Bella e antica città in provincia di Vibo Valencia, già sede della diocesi fin dal VI secolo. Nel 1818 la diocesi di Nicotera venne aggregata a quella di Tropea e nel 1986 si costituisce un'unica diocesi con il nome di Mileto Nicotera Tropea. In questa città, oltre alla storia millenaria che parla attraverso le case, il castello Ruffo, la cattedrale, c'è uno degli affacci più suggestivi dell'intera costa e senza nulla esagerare dell'intera Calabria. Da questo balcone a strapiombo sulla piana di Gioia Tauro si apre alla vista il confine sud della Calabria, la costa Viola, il monte Sant'Elia che protegge Palmi, Scilla e nelle giornate dall'atmosfera più terza anche lo stretto di Messina e la Sicilia. La cattedrale che vedete alle mie spalle è stata costruita nel 1065 da Roberto il Guiscardo e dopo il tremendo terremoto del 1783 questa chiesa venne ristrutturata su progetto di un allievo del Van Vitelli. All'interno della chiesa, l'edificio che ha croce latina con due navate laterali, transetto e coro profondo e absidato, possiamo vedere in modo particolare la cappella del Santissimo Sacramento, la cappella della Madonna delle Grazie con l'omonima statua in marmo di Carrara del 1499 opera dello scultore messinese Antonello Gaggini, due tele del pittore vibonese Giulio Rubino del 1743, il crocifisso ligneo opera dell'artista napoletano Angelo Laudano del 1590 eseguito su commissione del vescovo Monsignor Ottaviano Capece. Sul crocifisso ligneo in modo particolare ancora oggi si possono vedere i fori dei colpi sparati dai turchi a seguito dell'incursione che Nicotera subì. Di notevole importanza storico-religiosa sono anche le spoglie di San Clemente poste in un'urna di vetro. La navata centrale della cattedrale è dominata dall'altare monumentale in marmo che il vescovo Francesco Franco nel 1760 commissionò alle botteghe marmore di Messina e nella nicchia centrale emerge il ligno complesso scultoreo raffigurante Santa Maria Assunta, la patrona della città, che il vescovo del tempo commissionò allo scultore napoletano Domenico Muollo. È una statua questa largamente emulata ma mai eguagliata che proietta il suo autore tra i grandi della scultura linea del 700 napoletano. Il 2 agosto del 1996 questa chiesa cattedrale è stata elevata dall'allora vescovo Monsignor Domenico Cortese alla dignità di Santuario Mariano Diocesano con il titolo di Santa Maria Assunta in Cielo. Ascoltiamo il Vangelo di questa domenica. Dal Vangelo secondo Marco In quel tempo Gesù nel Tempio diceva alla folla nel suo insegnamento Guardatevi dagli scribi che amano passeggiare in lunghe vesti, ricevere saluti nelle piazze, avere i primi seggi nelle sinagoge e i primi posti nei banchetti. Divorano le case delle vedove e pregano a lungo per farsi vedere. Essi riceveranno una condanna più severa. Seduto di fronte al tesoro osservava come la folla vi gettava monete. Tanti ricchi ne gettavano molte, ma venuto una vedova povera vi gettò due monetine che fanno un soldo. Allora chiamati a sé i suoi discepoli, disse loro, in verità io vi dico, questa vedova, così povera, ha gettato nel tesoro più di tutti gli altri. Tutti infatti hanno gettato parte del loro superfluo. Lei invece nella sua miseria vi ha gettato tutto quello che aveva, tutto quanto aveva per vivere. Cari amici, cari fratelli, il brano del Vangelo di questa domenica si compone di due parti. Nella prima si descrive come non devono essere i seguaci di Cristo. Nella seconda ci viene proposto un ideale esemplare di cristiano. Nella prima parte Gesù addebita agli scribi, che erano i maestri della legge, tra i difetti che essi manifestano nel loro modo di vivere, la superbia, l'avidità, l'ipocrisia. Agli scribi, sottolinea Gesù, piace infatti ricevere i saluti nelle piazze, avere i primi seggi nelle sinagoge e i primi posti nei banchetti, ma sotto queste apparenze essi nascondono falsità e giustizia. Mentre si atteggiano in pubblico, usano la loro autorità per divorare le case delle vedove, che erano considerate insieme agli orfani e agli stranieri le persone più indifese e meno protette. Infine, dice Gesù, gli scribi pregano a lungo per farsi vedere. Tre azioni, allora, descritte con i verbi che Gesù rifiuta. Apparire, salire, comandare, avere. Sintomi questi di una malattia devastante, inguaribile, quella del narcisismo. Sono di fatto gli inconvertibili, perché Narciso è più lontano da Dio, di Caino, afferma Papa Francesco. E il Papa, commentando questo brano del Vangelo, dice che oggi si rischia di assumere ed avere anche noi questi atteggiamenti. Per esempio, quando si separa la preghiera dalla giustizia, perché non si può rendere un culto a Dio e causare così danni ai poveri. O quando si dice di amare Dio e invece si antepone a Lui la propria vanagloria, il proprio tornaconto. Ed ecco invece la seconda parte del Vangelo di oggi, in cui Gesù contrappone agli atteggiamenti degli scribi un Vangelo, potremmo dire, di verbi alternativi, essere, discendere, servire e donare. E lo fa questo Gesù portandoci in un luogo che è quanto di più estraneo al suo messaggio, si possa immaginare, in faccia al tesoro del Tempio. E lì, seduto come un maestro, Gesù osserva come la gente getta denaro nel tesoro. Come getta questo denaro? Non quanto. Le bilance di Dio non sono quantitative, ma sono qualitative. E ci sono molti ricchi che versano tante monete. E poi c'è una povera vedova che mette appena due spiccioli, due monetine. Dice sempre il Papa, quelle due monetine non fecero sicuramente il rumore delle grandi monete di argento. Eppure il loro tintinnio risuonò come una preghiera nel cuore di Gesù. E Gesù osserva attentamente quella donna e richiama i suoi discepoli sul contrasto che emerge dalla scena. Perché ci sono cose che, se non si guarda il cuore della gente come fa Gesù, non si capiscono o vengono male interpretate. I ricchi hanno dato con grande ostentazione ciò che per loro era superfluo, mentre quella vedova, con discrezione e umiltà, ha dato tutto quanto aveva per vivere. Per questo lei ha dato più di tutti, afferma Gesù. Quella donna ebbe fiducia e si giocò tutta la sua speranza nelle mani di Dio. Se consideriamo la sua situazione di povertà, avrebbe quantomeno potuto offrire una sola moneta per il Tempio e l'altra tenerla per sé. Ma lei non vuole fare a metà con Dio, si priva di tutto. Pur essendo povera, ha capito che Dio, avendo Dio, ella aveva tutto. Si sentiva amata totalmente da Dio e a sua volta lo amava totalmente. Gesù dice a noi oggi allora che il metro di giudizio non è la quantità, ma è la pienezza. Gesù non bada la quantità del denaro, anzi afferma che l'evidenza della quantità è soltanto illusione. Uno può avere tanti soldi, ma essere vuoto. Non c'è pienezza in quel cuore. Dice sempre Papa Francesco che non è una questione di portafoglio, ma di cuore e c'è differenza tra portafoglio e cuore. Ci sono malattie cardie che afferma il Papa che fanno abbassare il cuore al portafoglio e questo non va bene. Che cosa conta per Gesù? Conta quanto peso di vita c'è dentro, quanto cuore, quanto di lacrime, di speranza e di fede è dentro quei due spiccioli. L'uomo, cari fratelli, per star bene deve dare. È la legge della vita. Siamo progettati così questa capacità di dare e dare come un povero, non come un ricco, ha in sé qualcosa di divino. Tutto ciò che è fatto con tutto il cuore ci avvicina all'assoluto di Dio. Seguiamo anche noi l'esempio di questa povera vedova. È lei il modello del discepolo libero e coraggioso che si mette nelle mani di Dio. È lei l'immagine della comunità che ha la sua ricchezza nella povertà di chi affida tutto nelle mani di Dio che è l'unico vero tesoro. Buona domenica a tutti.